Ciao, mi chiamo mia, però sono in direzione di numero di piedi sono 38. Cosa vuoi fare da grande? Potrebbe essere fare la canzone. Gli scogliattoli, gli scogliattoli, sono belli da vedere, non sai neanche quanto. Gli scogliattoli, gli scogliattoli, sono belli da vedere, non sai neanche quanto. Gli scogliattoli, gli scogliattoli. Chi ha inventato questa canzone? Io. E comincerà il corso di teatro. Teatro. Ok. Ma anche danza. Ma anche danza. Che bel profilo da principessa, l'altro profilo. Brava. Ok, adesso la figura intera. Ciao, ciao.